Daniele Bossari Daniele Bossari, vincitore del GF VIP? La risposta di Filippa Lagerbach e il messaggio per Daniele Bossari sarà il vincitore del grande fratello VIP? La risposta di Filippa Lagerbach e il messaggio per Daniele Nel gergo automobilistico potremmo definire Daniele Bossari un diesel, uno cioè che non inizia sprintando, ma che con il tempo ingrana le marce giuste e va spedito fino alla meta O almeno questo è ciò che si augurano tanti suoi estimatori che seguono il grande fratello VIP, tra cui spicca Filippa Lagerbach, la sua amatissima compagna di vita E a proposito della coppia, in molti, proprio grazie all'avventura del conduttore di mistero nel reality, stanno conoscendo meglio questi due personaggi famosi, apprezzandone la pagatezza, la serietà e l'intelligenza Roba mica da poco, in un mondo, in particolare quello dello spettacolo, in cui troppi sbraicano e pochi parlano. Così, sono già tante le voci che vorrebbero Daniele come vincitore finale della trasmissione Anche Filippa ha detto la sua in un recente intervento su Instagram, non facendo mancare un bel messaggio per il suo uomo Filippa Lagerbach interviene sulla vittoria finale di Daniele al grande fratello VIP e incassa una miriade di apprezzamenti. La Lagerbach, nell'ultimo post su Instagram, è apparsa più splendente che mai. In molti fan hanno voluto esprimere la loro ammirazione Inevitabile che si parlasse anche di grande fratello VIP. Infatti, tanti anche i giudizi positivi su Daniele, che nel programma, sta emergendo per una squisita sensibilità e saggezza Ma trionferà? Alcuni utenti lo hanno chiesto e la showgirl ha risposto, grazie a voi, fan, MDR, tutto è possibile. Insomma, anche Filippa ci crede, ma un altro suo commento ha in particolare colpito di nuovo in positivo i fan della coppia Tutto è nato perché un seguace le ha scritto che pensava che lei fosse algida e fredda e invece ha scoperto una persona ben diversa da ciò che si immaginava Filippa, il messaggio per Bossari e la risposta al miele al fan. Le tue parole mi riempiono di gioia, grazie. Instagram è uno strumento per dimostrare e condividere la vera personalità, gusti e interessi e, ha scrittolo alla Lagerbach sul social La showgirl ha poi colto l'occasione per dare ancora una volta la dimostrazione di quanto sia vicino a Bossari in questa avventura televisiva, sottolineando comeppure lei ne stia traendo dei vantaggi Il GF mi ha portato tanti nuovi amici, ne sono consapevole e grata. W Dani, sempre e ovunque. E per voi? Daniele è il candidato giusto per portare a casa la vittoria Il GF mi ha portato tanti nuovi amici, ha scritto il nostro corso gratuito, grazie a tutti i nostri amici, ha scritto il nostro corso gratuito